Melania, una settimana intensa per te, tanti riconoscimenti, ma adesso si torna sul campo da calcio e c'è da chiudere in bellezza il 2015. Sì, è una settimana molto emozionante per tutto quello che c'è stato per me. Però sì, adesso abbiamo quest'ultima partita prima delle feste e sicuramente non è una partita sottovalutare, nonostante l'avversario sia inferiore a noi, comunque noi siamo decise di portare a casa questi tre punti perché vogliamo seguire questa linea positiva e vogliamo chiudere in bellezza prima delle feste. A Vittorio Veneto c'è molta attesa per la capolista, per le campionesse d'Italia, anche perché in fin dei conti è un derby del Veneto, è un derby inedito. Sì, è un derby, quindi è una partita sempre sentita, sia per noi che per loro, forse maggiormente per loro, perché comunque incontrano una squadra titolata e vorranno far bene sicuramente, quindi cercheranno di metterci in difficoltà. Però ecco, noi abbiamo dalla nostra la voglia di continuare a vincere.